Buonasera a tutti, bentrovati. Dopo un po' di dibattito spetta al prefetto sciogliere il nodo del centro islamico destinato a nascere Sesto Calende. Adesso c'è anche certezza di un'area individuata per accogliere questa moschea, o la si chiami come si vuole, nel segno appunto di una libertà di culto che la prefettura intende affrontare risolvendo ciò che in passato ha creato dissidi, ha creato dibattiti, ha creato anche qualche litigio di carattere politico. Quest'area è in via dell'artigianato. Ecco i dettagli. Al prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, il compito di occuparsi dell'area di Sesto Calende dove possa insediarsi il centro di cultura islamica. Come comunicato ufficialmente in una nota, sarà proprio il numero uno della prefettura a emettere gli atti necessari alla concretizzazione del progetto predisponendo le necessarie varianti al PGT. Dopo aver incontrato i vertici dell'amministrazione comunale, i gruppi consigliari, il presidente e l'avvocato dell'Associazione Comunità Islamica Ticinese, Pasquariello, ha confermato l'area demaniale di via dell'artigianato quale sede per il luogo di culto. La deliberazione e i relativi allegati saranno depositati allo sportello tecnico e pubblicati sul sito istituzionale del comune per 30 giorni, durante i quali sarà possibile presentare osservazioni. E a proposito di Sesto Calende, alle prossime elezioni comunali in programma a giugno, il centrodestra si presenterà compatto e quanto diffuso oggi in una nota congiunta. Non solo una corsa quindi all'insegna della unità, ma anche all'insegna delle forze politiche che esplicitamente si presenteranno coi simboli di partito, a differenza di forze civiche che si legge nella nota dicono di riferirsi al centrodestra, ma lo fanno però con simboli alternativi a quelli dei partiti, cosa che peraltro nei comuni spesso capita. E adesso voltiamo pagina e andiamo nel capoluogo a Varese. Vi davamo notizia l'altro giorno dell'accordo tra Autolinea e Varesine, Comune e Comando di Polizia Locale per incrementare i controlli a bordo degli autobus. Questa è una notizia che piace trasversalmente a tutti i partiti, ciò nonostante PD e Lega litigano. Botta e risposta Lega-PD sui controlli a bordo dei bus, a dar fuoco alle polveri Marco Bordonaro, il quale plaude a una presenza più massiccia e capillare di polizia locale, ma sottolinea due esigenze. Da un lato che l'amministrazione riconosca un problema di sicurezza a parole negato, ma, viste le novità, riconosciuto nei fatti. Dall'altro invoca l'assunzione di più agenti, mossa che potrebbe trovare adeguati finanziamenti dai ristorni, qualche milione di euro che, grazie all'abbassamento della soglia minima di frontalieri residenti, il capoluogo può finalmente incassare. A stretto giro la replica del PD, affidata all'omologa Dem di Bordonaro, Manuela Lozza. Primo, abbiamo compiuto un passo che le giunte di centrodestra non hanno mai fatto. Secondo, la presenza dei nostri vigili è comunque un'eccezione. Chiedete ai vostri esponenti di governo di assumere più poliziotti e carabinieri, così che sia lo Stato, e non il Comune, a vegliare sui bus. Restiamo in tema perché ieri sera è scattata l'ordinanza che vieta il consumo di alcolici nella zona della stazione di Gallarate. Puntuale come un orologio è arrivata anche la prima cascata di contravvenzioni per 2.000 euro in meno di un'ora. C'è da scommetterci che non saranno le uniche. Ecco i dettagli da Valentina Bigai. Polizia locale, sindaco e assessore alla sicurezza schierate in stazione a Gallarate per la prima serata senza alcol. Multe salate, 1.000 euro a testa, i due trasgressori che hanno ignorato l'avviso degli agenti poco prima delle 18, ora in cui scattava il divieto, e hanno continuato a bere whisky e birra sulla panchina di Piazza Giovanni XXIII. Sì, ho visto che la polizia locale stava sanzionando le persone che erano state avvisate in precedenza prima dell'orario, ma poi è arrivata la polizia locale, gli accolti lì che bevevano alcolici e quindi sono stati sanzionati. L'attività di quest'oggi a polizia locale è volta anche a informare le persone che non necessariamente conoscono l'ordinanza. Le attività sono state già informate ieri e l'altro ieri dai nostri agenti e quindi è giusto informare anche le persone disincentivando la frequentazione di questi spazi con alcolici o comunque in modo molesto. Giro di perlustrazione poi sotto i portici fino a percorrere il corridoio che porta dietro la stazione. Un folto gruppo di ragazzi, circa una trentina, sono stati controllati. Qualcuno si è dileguato in fretta tra chi beveva alcol e chi sembrassesse fumando sostanze superfacenti. In molti però chiacchieravano semplicemente, ascoltavano musica. Questo provvedimento è stato fatto da sottoscritto per 30 giorni che è il termine massimo che consente la legge per questi provvedimenti straordinari per tentare di limitare questo fenomeno di schiamazzi, disturbo della quieta pubblica che c'era in quest'area della stazione. Quindi da oggi fino al primo marzo è in vigore questa ordinanza che dalle 18 alle 6 del mattino vieta la vendita e il consumo di alcolici in questa zona. Un'iniziativa quella dell'ordinanza che non piace all'opposizione. Abbiamo ascoltato la voce critica del Partito Democratico. Non posso bere la birra se sono in strada, ma posso berla al tavolino, posso berla dal lato estere di via 25 Aprile, ma non posso berla al lato ovest o viceversa. Insomma è veramente una bandierina messa per dire, ci siamo accorti che il problema è rimasto tutto intero. Commenta così il capogruppo del PD gallaratese Giovanni Pignataro l'entrata in vigore dell'ordinanza sindacale che vieta per un mese dal primo febbraio il consumo e la vendita di bevande alcoliche nell'area della stazione. Questa ordinanza è la dimostrazione del fallimento del progetto stazione sbandirato come la soluzione di tutti i mali nel 2021 con rifacimento alla piazza per 700 mila euro che avrebbe dovuto risolvere tutti i problemi. Chi frequenta la stazione Pendolare o chi passa da questa piazza sa che invece i problemi si sono riproposti tutti uguali. Oggi ci sono tantissimi agenti di polizia locale perché c'è l'ordinanza che entra in vigore questa sera. Nelle serate precedenti c'era tutto quel portico occupato e il problema va avanti fino a via Cavour. Allora anziché fare propaganda sarebbe opportuno sedersi a un tavolo, cercare soluzioni condivise e cercare soluzioni che passano attraverso il contributo di tutti. E' questo che chiediamo all'amministrazione, non ordinanza e spot. Poi però abbiamo anche ascoltato alcuni passanti e la cosiddetta gente comune in prevalenza ci sembra d'accordo. E' giusto vietare le bevande alcoliche in quest'area. A sostenerlo a microfoni spenti uno dei giovani che nella prima serata in cui è scattata l'ordinanza Noal con l'instazione a Gallarate era sul lato posteriore intorno alla nuova farmacia insieme ad un piccolo gruppo di amici rimasti dopo il fuggifuggi di ragazzi all'arrivo di polizia e sindaco. D'accordo sull'utilità del provvedimento anche i titolari delle attività commerciali sotto i portici qualcuno racconta di essere stato minacciato dopo di alcuni molesti tra i viaggiatori e l'opinione di un ex pendolare. Spesso molta gente che torna a pendolare deve aspettare magari i genitori o qualcuno che la viene a prendere non si sente sicura in questa zona perché solitamente ci sono un po' di persone, un po' abriache o altro sotto i portici non è molto, cioè è un po' pericoloso per chi magari è qui e sta aspettando e magari i giorni di stazione non ci sono la sera persone in biglietteria o altro e non sei tutelato quindi sì penso sia utile come ordinanza e sì. E a proposito di sicurezza e polizia locale andiamo all'aeroporto di Malpensa. Vi abbiamo già detto del rinnovato accordo per aumentare i controlli sulle strade che circondano l'aeroporto naturalmente contro la sosta selvaggia, contro il traffico talvolta imbizzarrito ma anche e soprattutto contro i taxi abusivi. Questo rinnovato accordo prende spunto dai risultati dell'anno 2023 in cui le multe sono state davvero tante. 238 contravvenzioni su quasi 5.000 controlli e l'esito dell'azione congiunta messa in campo a Malpensa nel 2023 è frutto del protocollo d'intesa firmato in prefettura nel giugno 2022 e prorogato a maggio 2023 e rinnovato in forma integrata il 31 gennaio scorso. Artefici dell'intesa lo ricordiamo il prefetto Salvatore Pasquariello, l'assessore regionale romano Larussa, la SEA, i sindaci dei comuni che si affacciano sull'aeroporto e quelli di Varese, Buste e Gallarate. Grazie al lavoro sinergico delle polizie locali di tutti gli enti coinvolti, nel 2023 sono state attivate 606 pattuglie al T1 e 400 al Terminal 2, controllati 748 automobilisti, ritirate 4 patenti, sequestrati 7 veicoli e rimossi altri 18. E questa lunga parte dedicata al traffico ai controlli ci porta ora a Malnate. lunedì mattina apre ufficialmente il cantiere sulla 342, meglio nota come statale Briantea, che unisce le province di Como e di Varese e che vede nella città di Malnate un attraversamento davvero intenso e quotidiano. Ebbene, questo attraversamento, come vi abbiamo già più volte segnalato, sarà un po' sconvolto, perché i lavori che vanno a partire dureranno un anno. Le amministrazioni comunali coinvolte, la prefettura, anche le autorità di Como si sono mobilitate per rendere più capillare possibile le informazioni del caso, ma non è tutto. Si è deciso di vietare il transito ai mezzi pesanti in arrivo dal capoluogo lariano. Stop a una parte dei mezzi pesanti in transito sulla Briantea. Da lunedì 5 febbraio apre il cantiere della 342 destinato a ridisegnare l'attraversamento di Malnate con una nuova intersezione e una rotonda antistante il municipio. Nei giorni scorsi avevamo dato spazio al vertice in prefettura, dove convergono autorità del Varesotto e del Comasco al fine di rendere più capillare possibile l'informazione e la segnaletica, favorendo percorsi alternativi e, in tre parole, evitare il caos. Tra i primi accorgimenti comunicati ufficialmente dalla sindaca, Irene Belle Femmine, c'è, come accennato, lo stop agli autocarri di almeno 3,5 tonnellate provenienti da Como, a eccezione dei veicoli diretti in zona industriale. Cambiamo argomento, parliamo di cultura, ma anche di spettacolo e di grandi nomi. In questo caso il grande nome di un violinista nordio atteso a Buster Sizio. Dopo il successo del concerto di Capodanno e dei primi due appuntamenti della stagione sinfonica 2023-2024, l'Associazione Culturale e Musica dei MAPS torna a invitare il pubblico al Teatro Sociale di Buster Sizio. Domenica 4 febbraio, alle ore 18, al Teatro Sociale di Buster Sizio, sarà ospite uno dei più acclamati musicisti italiani, il violinista Domenico Nordio, che eseguirà il concerto di Mendelssohn Pevelino Orchestra insieme all'orchestra Duelini Cantiani di Buster Sizio, l'orchestra Duca. A seguire la sinfonia, la sorpresa di Haydn, un concerto veramente da non perdere. Andiamo a Buster Sizio, parliamo del Biafim Festival che si appresta a vivere una 22esima edizione moltiplicata per tre. Perché? Perché al di là della consueta settimana di Kermesse cinematografica si aggiungono altri eventi e il Festival finisce per ampliarsi ad altre stagioni. Si parte il 6 aprile con un grande appuntamento per il pubblico e proiezioni per gli studenti. Poi è in programma un grande evento estivo e poi la vera e propria settimana del Biafim Festival dal 28 settembre al 5 ottobre. Naturalmente è solo un antipasto che condividiamo con l'organizzazione del Festival. Avremo poi modo di parlarne in maniera più dettagliata. Adesso fermiamoci ancora a Buster Sizio, ancora per motivi culturali, ma in questo caso per sonorità e coreografie irlandesi. Domenica si terrà la settima edizione del Busto Fesh, gara internazionale di danze irlandesi. A Busto Sizio arriveranno ben oltre 150 ballerini da otto nazioni europee alla Palacchia e Ricchetti, in via a Riosto, per sfidarsi nelle varie competizioni della danza irlandese. È una gara aperta al pubblico, quindi potete venire assolutamente a vedere com'è il mondo delle gare irlandesi. A organizzare l'evento, l'Accademia di Danza irlandesi James Dees, presente a Busto Sizio da oltre 30 anni, con il patrocinio dell'Ambasciata irlandese in Italia, di comune e regione. E ora a Castellanza, più che altro per interloquire con il patron dell'archivio fotografico Claudio Argentiero, anche egli tra i protagonisti di Filosofarti. L'archivio fotografico italiano continua a collaborare con le iniziative del territorio a partire da Filosofarti. Sì, come ogni anno partecipiamo all'evento del Festival di Filosofia, che ormai comprende un territorio molto ampio, con tre mostre di reportage legate appunto al tema che hanno indicato come l'organizzazione, quindi visibile e invisibile, porteremo tre mostre importanti, uno sugli armeni, una sulle donne iraniane e una sui bambini malati di tumore dell'Ucraina. Quindi tre argomenti che sono visibili, ma nello stesso tempo invisibili. Grazie al lavoro dei fotografi cercheremo di approfondire questi temi. Ricordiamo data e luogo? Allora, la Villa Pomini-Castellanza dall'11 febbraio, il giorno di inaugurazione, alle ore 17, con la presenza degli autori, che sono Roberto Travan, Reza Cattir, Giovanni Mereghetti e Ugo Panella, e poi le mostre saranno visitabili fino al 3 di marzo. Intensa la pagina sportiva che apriamo con l'Eco Run. Si corre il 20 e 21 aprile per le strade di Varese. Sarà un'altra manifestazione, non solo competitiva, ma anche e soprattutto solidale. Vale la pena iscriversi, partecipare ai numerosi. Ecco i dettagli. Incasso destinato al centro Gulliver e a Caos, realtà che si occupa di donne operate al seno. Un'ampia rosa di competizioni per appassionati e cavalli di razza, spiriti amatoriali e animi competitivi. Il tutto in una Varese chiusa al traffico e aperta alla solidarietà con il Lions Day, le visite gratuite, gli stand, i laboratori, le mostre ce le ho aperto. Insomma, è quasi tempo di Ecoran, iniziativa nata come una sfida e già divenuta tradizione. Appuntamento il 20 e 21 aprile. Il quinto anno dell'Ecoran che non è più un evento sporadico ma è entrato nel panorama degli eventi della città di Varese. Una manifestazione molto importante perché riesce a legare lo sport al mondo della solidarietà, all'ecologia. Lo sport ha questa forza, quella di mettere insieme e riuscire a fare rete. Per cui complimenti agli organizzatori, sono sicuro che sarà un'altra giornata bella, importante per la città di Varese. Come accennato, il menù delle corse che attraverseranno la città è davvero ricco. Ci saranno quattro gare di cui due competitive e due non competitive. La mezza maratona che sarà anche campionato provinciale Fidal, la 10 chilometri competitiva e poi la 10 chilometri non competitiva e la 5 sempre non competitiva, aperta a tutti. I colleghi di Varese Sport che come sapete conducono su Rete 55 un appuntamento settimanale del giovedì sera annunciano che dal 10 febbraio ogni settimana dedicheranno uno spazio speciale alla stella, allo scudetto del basket. Sì, perché quest'anno ricorrono i 25 anni da quella gloriosa vittoria bianco-rossa. Allora, iniziamo a presentarvi le intenzioni. 1999, l'anno della stella. Un quarto di secolo dallo scudetto bianco-rosso Varese Sport dedica una serie di speciali ai protagonisti di quella magica cavalcata. Si parte il 10 febbraio con un percorso settimanale che giungerà alla fatidica data dell'11 maggio attraverso i canali della testata bianco-rossa e con tanti protagonisti, aneddoti, confidenze e retroscena come questo. Il gruppo è stato un gruppo pazzesco con unità di intenti con tantissimo talento e dopo non analizzare tutti gli studenti che c'erano tantissimo davvero tanto e poi anche tutti quei risultati a fila che abbiamo messo all'inizio di stagione. Lì prendi più sicurezza, più consapevolezza e poi capito che non pensi allo scudetto ma pensi che quell'anno ti può divertire. Sì, insomma l'abbiamo fatto vedere in campo quello che c'era questa capacità di scherzare di fare anche delle scene di fare dei siparietti di vivere visceralmente la partita forse a volte anche un po' troppo ci siamo anche presi perché poi c'è stato un episodio posso continuare a raccontare che chiaramente è super che mi piace se siamo amati eravamo in preparazione in montagna adesso è un grosso caspoggio o valtellino e quelle parti lì e la palestra era rialzata c'era una scalinata che portava gli spogliatori e uscendo sull'ultima azione Poz passa la palla a Cazzaniga il quale perde il pallone e si fa una cagata e Poz inizia a prendere le parole ma che ci fai? ma pesanti e poi lascia lo stare no poverino no no tu che cacchio vuoi insomma iniziamo un po' a spintonarci e arriva il buon Armandino Crugnola a dividersi no no fate i bravi no no freddo fate i bravi fate i bravi fate i bravi e l'Armandino è quello che subisce che vuole giù dalle scale e mozza nei capelli e vede l'Armando che rotola giù allora a fine Charlie ci lascia fuori tutti e due però era uno spettatore che gli aveva una scherza ci siamo presi più volte ma è normale come i due fratelli che litigano 5 minuti fuori tutto il posto ora però torniamo ai biancorossi di oggi che si apprestano a vivere la difficile sfida sul parquet di Trento due punti per guardare alla zona playoff questa è la missione della pallacanestro varese che domenica 4 febbraio alle ore 18.15 scende in campo a Trento contro la Dolomiti Energia due punti rilancierebbero clamorosamente i biancorossi in ottica playoff e darebbero un bel segnale dopo il brusco stop di Coppa contro Leiden non ci sarà Young visto che la società biancorossa ha deciso di esercitare l'opzione di uscita a proprio favore presente nel contratto con il giocatore americano di fronte una Trento non in salute che viene da due pesanti sconfitte contro Venezia e Buduk Nost e infine una bella pagina di sport e di impegno sociale come sapete da più di 20 anni c'è un marchio tutto varesino si chiama Freerider Sport Events Rete 55 ne parla da parecchio tempo da quando è sbocciato adesso anche le testate nazionali hanno incominciato a interessarsi alla causa ci fa molto piacere e allora andiamo a visitare la tappa del tonale peraltro con un angelo custode che non può mancare cioè la polizia di stato Va come sempre a gonfie vele la stagione della Freerider che organizza esperienze sciistiche per le persone affette da disabilità un racconto che si ripete da oltre 20 anni abbatte barriere forgia sinergie amicizie fiducia complice lo straordinario team di artefici volontari e sostenitori guidati dal presidente Giulio Brogini e dal coordinatore tecnico Nicola Busata in questi giorni l'attenzione si concentra sul tonale ulteriore tappa di un cammino che si concluderà ad aprile nel gran finale di Madonna di Campiglio fondamentale come sempre l'occhio attento e sensibile della polizia di stato magnificamente rappresentata da Andrea Necchi il sovrintendente del centro di addestramento di Moena che un anno fa sulle nevi di Folgaria soccorse e salvò una persona disabile in arresto cardiaco la polizia di stato ha 15 anni che segue questo meraviglioso scrittur dando garanzia di sicurezza e assistenza tecnica a questa associazione varesina che riesce a portare in sicurezza e godere di queste meravigliose piste di cinque questi ragazzi con disabilità siamo alla programmazione serale di Rete 55 alle 21 il cinema con il film Acta Marousia alle 23.30 una famiglia quasi perfetta io mi fermo qui vi auguro buona serata arrivederci